Vincenzo Galia, qualifica 1, loose and drop, master 35 Pesgo Vai, non puoi partire 9 Jimmy, a lei, eh? A lei! Tuo! Vai! Sì? Vai! A lei, Jimmy! Sì? Dai, Jimmy! Sì, Jimmy! A lei! Sì, dai! Tuo! A lei! Dai! Tuo! Sì, Jimmy! Sì, cazzo, sì, Jimmy! Dai! Tuo! Non mollare ora, Jimmy, a lei! Spingo! Sì! 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 Grazie! Molle! Molle! Ok! 2! Ok! 5! 15, 20, aspetta che c'è luce, devi toglierlo, vieni qua, si che coglione, ok, 20, 115, adesso faccio vedere anche il bilancio, dovevo pesare perché non si vedi? 0 ok lo sto tenendo chiaramente adesso mi preso io un attimo che si scarica 82.1 ok 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 tanto quasi presa ok 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 6 a 3 minuti e 50 ma devi volare Jimmy vuoi controllare 1 e mezzo il bilanciere volo di prima e 15 molle 15 1 e mezzo totale 50 5 e 0 2 ti faccio il candame Jimmy tacco push press 6 a 5 e 35 5 e 50 1 2 5 4 3 2 1 1 2 clean 1 2 3 2 3 push 1 2 3 in back 1 2 3 dai davanti subito 1 2 vai di clean 1 2 3 push front scusami scusami 1 2 3 1 2 ci sei Jimmy ci sei non mollare ora su vai Jimmy vai Jimmy 1 dai tutto dai tutto dai tutto tutto Jimmy si Ade non mollare Jimmy dai 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 Ale Ale Jimmy non ora dai su 1 2 dai Jimmy 3 dietro 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 1 è finita Jimmy è finita 2 si 3 giù 1 1 16 bravo scusami è per l'adoro